Obiettivo Città oggi vuole parlare delle case popolari, come era stato promesso in campagna elettorale da Massimo Bitonci le case prima ai padovani. C'è stata un'inversione rispetto al passato, allora sentiamo cosa è cambiato e come è cambiato. Un importante risultato con l'approvazione della prima graduatoria dopo la modifica del regolamento di assegnazione delle case popolari, io dico un grande risultato perché l'avevamo detto in campagna elettorale all'interno del programma elettorale votato dai padovani, finalmente l'assegnazione delle case dell'Atere, le case del Comune di Padova, delle case popolari padovane andranno in preeminenza ai cittadini padovani. Lo dico perché qualcuno come hanno fatto in passato tacciare questo tipo di scelta come dicono sempre quelli di sinistra, che è una scelta di tipo razzista contro gli immigrati. No, non è una scelta razzista contro gli immigrati perché qui si parla di residenti, cioè la modifica del regolamento di assegnazione delle case popolari nel Comune di Padova è stata modificata per nostra volontà e c'è un punteggio maggiore assegnato alla legge regionale ai cittadini padovani residenti nel Comune di Padova più 10, 15, 20 anni, quindi con un punteggio graduato. Questo ha fatto sì che l'approvazione della nuova graduatoria ha dato maggior peso a chi è residente nel Comune di Padova da più di un tot di anni e la graduatoria è completamente cambiata, nel senso che finalmente famiglie di padovani che aspettavano da anni e magari erano lontani dalla graduatoria rispetto a chi magari era arrivato l'altro giorno nel Comune di Padova, ma per alcuni criteri, componenti del nucleo familiare o questioni reddituali o questioni legate all'alloggio arrivavano sempre primi in graduatoria e nell'80% dei casi erano cittadini extracomunitari, la cosa si è invertita, adesso le case vanno ai cittadini padovani. Io penso che questa è una scelta importante che fa capire come la nostra amministrazione pensa che le case che sono realizzate con soldi dei padovani, con soldi anche della Regione, ma tanti soldi dei padovani anche del Comune di Padova debbano essere assegnati a chi vive nel territorio o è residente da Padova da più di un tot di anni. Una scelta importante che penso che faccia capire come la nostra amministrazione sia vicino, sempre vicino ai cittadini. La stessa misura è stata utilizzata anche per le graduatorie per esempio degli asili nido, anche qui per cercare di dare una priorità maggiore a chi è residente nel Comune di Padova, senza togliere la possibilità ovviamente agli altri di partecipare, perché il diritto è un diritto esteso a tutti, ma io penso che chi è arrivato da poche settimane, pochi mesi a Padova e non è neppure cittadino italiano, magari deve aspettare di integrarsi qualche anno prima di avere un diritto come tutti gli altri che magari sono nati, vissuti con la loro famiglia all'interno della nostra società per un sacco di anni. Quindi una scelta che non può che essere più che positiva per i padovani.